Prima Radio Malika Iann e la sua stracciabudella nel gran mattino di Prima Radio Torniamo su un argomento di cui abbiamo già discusso tanto nei giorni scorsi ma probabilmente torneremo a farlo con molta frequenza perché ci interessa e interessa un territorio come il nostro una parte della provincia di Palermo e soprattutto tantissimi cittadini che vedranno subirsi una sorta di sopruso cioè praticamente in una zona bellissima nel territorio di Terrasini ormai sembra che sia inequivocabile la situazione dovrebbe sorgere un centro di stoccaggio e compostaggio di rifiuti da qualche mese è nato anche un comitato per la tutela del territorio di Paterna e Zucco questa è la zona proprio interessata dalla possibile costruzione di questo centro e oggi è il mio piacere di conoscere un po' la situazione e i motivi legittimi della protesta da parte di uno dei componenti buongiorno ad Angelo Censoplano ben trovato? Buongiorno buongiorno, benvenuto su Prima Radio dicevo prima quindi un comitato di protesta perché voi da residenti di Terrasini ma anche persone interessate direttamente dalla costruzione di questo centro perché chi c'è il terreno, lei ad esempio ci spiegherà il motivo altri la villetta cioè praticamente si stanno vedendo commettere una sorta di vero e proprio sopruso diciamo che questo comitato nasce da un'esigenza che è quella di impedire perché si realisi un centro di stoccaggio e compostaggio in una delle zone più belle di Terrasini più belle perché? perché intanto ci sono coltivazioni di terre a carattere biologico lei mi insegna che il biologico richiede una coltivazione particolare l'utilizzo di anticrittocamicidi particolari perché non possa nuocere alla salute assolutamente il fatto che il tizio abbia deciso di realizzare una discarica la discarica in quei luoghi peraltro vicinissima alla vecchia discarica in cui si sono verificati in passato degli incendi come prima cosa la discarica tra l'altro la vecchia discarica a cui le fa riferimento è stata chiusa ormai da anni proprio per la pericolosità e soprattutto per il fatto che si trova in un posto la discarica la vecchia discarica venne chiusa circa 15 anni fa perché ormai era satura ok avere scelto da parte di questa ditta cf ed il di andare a realizzare un'opera di se fatte condizioni mi sembra un fatto estremamente grave estremamente grave da parte e irrispettoso soprattutto da parte di questo signore che a tutti i costi intende realizzare una discarica in quel luogo carregando danni non solo ai limitrofi ma anche a quei villaggi turistici che esistono nella immediata vicinanza di quella discarica che dovrebbe nascere per dare un'idea a chi ci ascolta scusa e vede città del mare e per la del golfo esatto infatti stavo dicendo per dare un'idea a chi ci ascolta avete presente l'autostrada c'è tra lo svincolo di Montelebre e Partico il ponte, il viadotto, ecco il territorio è proprio quello quindi tutta la vallata che arriva fino a sotto il ponte diciamo che peraltro questa nascente discarica si trova in mezzo all'autostrada e alla ferrovia è una cosa inconsueta, è una cosa mai sentita in 86 anni che ho compiuto a luglio non riesco a capacitarmi quali siano stati gli elementi che hanno determinato l'autorizzazione di questa discarica ecco andiamo su questi aspetti lei l'ha fatto intuire, anzi ha detto apertamente quindi l'iniziativa è privata però c'è l'avallo della regione perché sta autorizzando il tutto certo, c'è l'avallo della regione secondo me la regione ha commesso un gravissimo errore errore di valutazione non ha tenuto conto delle circostanze non ha tenuto conto delle peculiarità dei terreni non ha tenuto conto dell'esistenza di centri turistici nelle immediate vicinanze non ha tenuto conto di nessuno soprattutto non ha tenuto conto di un parere negativo da parte del Consiglio Comunale indiero sì perché lo ricordiamo Terrasini si è schierata indiero dell'amministrazione comunale guidata dai suoi maniaci mi sembra veramente una cosa che non sarebbe dovuta esistere non avrebbe dovuto esistere questa situazione ma allo stato attuale, qual è la situazione? nel senso che ormai è esecutivo, c'è il progetto, stanno per iniziare i lavori? ma c'è il progetto, c'è sicuramente c'è il progetto perché sulla base di che cosa devono approvare? potevano approvare i due enti alla base di un progetto presentato da un privato ma quello che è più grave a mio parere è che come si fa a cambiare la destinazione d'uso di un terreno su una richiesta di un singolo cittadino quando la sovranità appartiene al popolo al popolo di Terrasini in quanto dovrebbe esistere a Terrasini questa discarica e allora la Costituzione viene stravolta perché l'articolo 1 della medesima Costituzione prevede che ogni cittadino ha il diritto di esercitare la sua sovranità nell'ambito del territorio di cui appartiene quindi allo stato attuale la destinazione d'uso di questa zona qual è secondo il piano regolatore? ma ora la regione l'ha modificato la destinazione, penso io non ho avuto la possibilità di verificare di guardare le carte ma suppongo che abbia già modificato la destinazione d'uso di questa zona perché lì ci sono villini, colture, agrometri ma ci sono villini, ci sono ascolti ci sono coltivazioni di prodotti biologici vedi la ditta del nonnonino orto del nonnonino che hanno moltissimi terreni che coltivano e che danno lavoro a moltissime persone ora io ho avuto la possibilità di partecipare a un incontro con il dottor Ponte titolare, anzi proprietario del Perla dei Golf il quale manifestava la sua preoccupazione qualora venisse realizzata questa discarica e dice lui io sarei costretto assolutamente a chiudere all'indomani questo villaggio ma ci rendiamo conto in che situazione siamo io dico semplicemente questo come disse come disse dissero i bravi si andiamo ai promessi sposi i bravi a donna abbondio questo matrimonio non c'ha da fare io dico che questa discarica costi che costi io sono disposto anche a rischiare la vita non si dovrà fare nella maniera più assoluta quindi state sentendo l'appello è molto forte no dico un appello forte non è la maniera più assoluta e nessun politico ha il diritto di sovrastare a questa nostra volontà che è quella di preservare il nostro territorio assolutamente allora parole durissime le sue ma anche comprensibili è giustificabile chiaramente uno si vede così di martoriare il territorio e anche gli sforzi di una vita perché mi raccontava prima lei ha delle proprietà uliveti inizia di anni iniziato dai suoi avi erano di mio nonno poi di mio suocero eccetera eccetera non so se rendo l'idea assolutamente e vedersi distruggere così da parte di un singolo cittadino è una cosa o lessiva della dignità e della onestà intellettuale di chiunque faccia parte di questa comunità chiaro allora io vi invito a visitare soprattutto a tenere l'attenzione su questo fatto magari andandovi anche a informare a documentare se siete curiosi di saperne di più c'è questa pagina il comitato per la salvaguardia del territorio di Paterna e Zucco su Facebook ma anche la cronaca ne ha dato già ampio risalto sono numerosi articoli servizi televisivi che parlano di questa faccenda ed è chiaro che se ne continuano a parlare perché non è soltanto il signor Censoplano qualche altro residente villeggiante della zona che è insorto contro questa iniziativa ma c'è anche un'amministrazione comunale quindi tutto un territorio che sta dicendo no, sta cosa è veramente impossibile è illogica da fare in questa cosa comunque speriamo che la situazione cambi allora signor Censoplano le faccio i miei complimenti per la grinta e soprattutto anche per la bella forma fisica 86 anni invidiabile 86 anni l'ho compiuto e sei il luglio fantastico mi sono ho conseguito due lauree sì, ma ho conseguito la scorsa settimana la pubblica lei questo sì, lo stiamo già dicendo ho conseguito come dicevo la scorsa settimana un diploma di studi internazionali di geopolitica con un punteggio di 100 su 100 e la lode con questo non voglio peccare di presunzione ma mi sembra un fatto corretto e poi che sono io abituato in quanto ho fatto il commerciante mi piaceva mettere la merce esposta giusto anche a enfatizzare quelle che sono le mie ma sono dei traguardi importanti ci mancherei perché devo nasconderle le cose brutte vanno nascoste diceva un certo persio che se tu conosci se tu sai qualcosa che altri non la sanno che cosa ti serve bravo giustissimo e con questa citazione possiamo chiudere questa piacevolissima chiacchierata signor Censoplano complimenti anzi dottor Censoplano complimenti per tutto grazie a tutti buona giornata prima radio prima radio ciao 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 ciao